Joelle Dix è nato a Milano, il 3 gennaio 1956 da una famiglia ebraica. Dopo aver conseguito la maturità classica, Dix muove i primi passi nel teatro alla fine degli anni 70, promuovendo e animando la cooperativa milanese del Teatro degli Eguali, fra i numerosi allestimenti teatrali a cui partecipa. Sogno di una notte di mezza estate. Musical rock da Shakespeare per la regia di Gabriele Salvatores. Un marziano a Roma di Ennio Flaiano per la regia di Antonio Salines e due allestimenti molieriani. Il malato immaginario e il tartufo accanto al grande maestro Franco Parenti. Deciso a intraprendere la carriera di solista comico. Si esibisce al derby club e allo Zeylig. Storici cabaret milanesi. Il nome d'arte Joelle Dix nasce nel 1987 dopo un provino allo Zeylig con Gino e Michele. Fin da ragazzino sognavo un nome con la X. Che non fosse Craxi. Tom Mix, Otto Dix. Joelle è il nome di un profeta della Bibbia. Omaggio alla mia identità ebraica. Raggiunge la popolarità nel 1988 nel varietà televisivo Cocco di Rai 2 con il personaggio. Dell'automobilista incazzato come una bestia. Virgolette. Negli anni 90 si afferma come attore ed autore di teatro con mai a stomaco vuoto. 1990, Antologia di Edipo. 1991, Anna. Con le sonorizzazioni di Hubert Westkampere e le musiche di Mario Guarnera. 1992, Sto ristrutturando. 1993, Questa estate. 1994, La mia patente non scade mai. 1988, E mi sembra che andiamo bene. 1997, In questi anni si afferma anche come attore televisivo con tre passi nel delitto. Rai 2, 1993, Olimpo Lupo. Cronista di Nera. Canale 5, 1995. Uno di noi, Rai 1, 1996. Fino alle apparizioni mai dire gol della Jalapas Band. 1, 997, 2001. Con l'imitazione di Alberto Tomba. Negli ultimi anni è stato protagonista di vari impegni cinematografici e televisivi. Fra cui film Se fossi in te è, nel 2004. Ora è per sempre al fianco di Giorgio Albertazzi. Tra i molti spettacoli teatrali di questo periodo. Cuori pazzi di F, T. Altan. 2000, Il libertino di E, E, Schmidt insieme a Ottavia Piccolo. 2001, in cui è il primo uomo italiano a recitare in teatro nudo integralmente. Corto maltese da testi di Ugo Prate con musiche di Paolo Conte. Recentemente è tornato sulla scena con Edipo. Com con la regia del celebre Sergio Fantoni. 2003, la B.P. ha quasi sempre ragione con Cesare Piccol Pianoforte. 2004, pieces che tendono ad accentuare la dimensione del racconto. Sfruttando le sue naturali doti di affabulatore. Nel 2007 entra come comico nel cast di Zelig con il suo personaggio dell'automobilista incazzato. Nel 2008 è in scena con gli spettacoli Tutta colpa di Garibaldi con testi di Joelle Dix. Sergio Fantoni e Nicola Fano per la regia di Sergio Fantoni e successivamente Dix Play di Joelle Dix. Con la partecipazione di Bebo Best Baldan. Sempre nel 2008 partecipa all'edizione di Zelig di quell'anno. Nel 2009 realizza la sua prima regia teatrale per il gruppo degli Oblivion firmando lo spettacolo. Oblivion Show che girerà l'Italia per due stagioni. Nel 2011 sarà il regista anche del secondo spettacolo degli Oblivion. Oblivion Show 2.0 il sussidiario. Nel 2009, 2010, 2011, 2012 continua a partecipare a Zelig. Nell'edizione di Zelig del 2013 partecipa solo all'ultima puntata. Dal 2013 collabora con il quotidiano La Repubblica attraverso un suo blog. Ma io mi domando è, dico, partecipa anche alla nuova edizione Zelig TV del 2014 in onda su Canale 5. È un noto tifoso interista. Inoltre è nato lo stesso giorno e nello stesso anno del famoso attore e regista Mel Gibson.